Ci sono già due indagati per l'incidente alla Chimet di Badia Alpino, nel quale sei operai sono rimasti intossicati da monossido di carbonio fuoriuscito da un filtro durante le operazioni di ripulitura. La procura di Arezzo, dopo aver aperto un fascicolo, ha iscritto nel registro degli indagati i due preposti alla sicurezza dell'azienda, anche se resta massimo il riservo della magistratura riguardo ai nomi. L'ipotesi di reato per la quale si procede sarebbe quella di lesioni colpose. Adesso il PM Angela Masiello resta in attesa della relazione del PISL intervenuto sul posto. Nessuno degli operai coinvolti è comunque in pericolo di vita, le condizioni di tutti i lavoratori sono migliorate, il più grave l'operaio che si trovava in prossimità del filtro è ancora ricoverato a Careggi, 40 giorni di prognosi per la guarigione. Ed è proprio sulla salute dei dipendenti che si apre la nota dell'azienda. Kimet, si legge, ritiene innanzitutto opportuno rassicurare circa le condizioni dei lavoratori coinvolti. Nessuno di loro ha riportato conseguenze gravi, né stato mai in pericolo di vita. L'azienda, si legge ancora, ringrazia tutti i dipendenti che hanno agito secondo le procedure di legge. Le forze dell'ordine, i vigili del fuoco e i tecnici ARPAT è precisa che si è subito attivata per comprendere le cause che hanno generato la formazione del tutta anomala di monossido di carbonio. Kimet, in ogni caso, conclude la nota, continuerà ad investire sia sulla formazione del personale, sia sulla ottimizzazione dei propri processi industriali, ricercando le migliori tecnologie a disposizione per rendere sempre più efficienti le procedure in essere.